L'Agropoli Cilento Servizi, azienda consortile del Comune di Agropoli, diventa più smart offrendo la possibilità agli utenti di richiedere gli abbonamenti ai parcheggi cittadini così come i permessi per la sosta con un clic. La procedura è semplice, basta collegarsi al link e registrarsi. Una volta entrati si potrà procedere alla richiesta di abbonamento o di permesso per la sosta a seconda della tipologia scelta. Viene rilasciata al termine della procedura l'apposita ricevuta e la targa dell'utente viene registrata sul sistema. In questo modo non ci sarà più necessità di esporre il talloncino sul cruscotto del veicolo in quanto il controllo da parte degli ausiliari della sosta avviene in maniera telematica sulla targa. Una iniziativa pensata insieme al presidente Domenico Gorga e al direttore Giuseppe Capozzolo, in accordo con il CDA dell'azienda, dichiara il primo cittadino di Agropoli a Damocoppola, che sono certo sarà apprezzata dagli utenti.